Eccoci qua! Ciao! Ti richiedo il nome anche se ci siamo presentati prima, io sono Nicola, il tuo video. Di dove sei Stefania? Cesena! Cesena? Io sono di Ravenna. C'è vicini! Allora, con chi sei venuta per questa tua fantastica esperienza? Non c'entro niente, guarda, quello che è appena uscito è un po' bianco ma è colpo su. Ah, ok, c'è il tuo gruppo, tu non salti? Sto aspettando che... Ah, grande, grande, grande. Allora, siamo carichi? Certo, di brutto. Benissimo. Bello! Allora, parte fondamentale del salto per che riesca bene a sorridere, ok? Ok. Poi in aria e cerchi di darmi degli schiappi in faccia. Buono! Attento che ti sento veramente! Forte, forte! Un beso, vado a finire di prepararvi, ci vediamo in aereo. A presto! A presto! Ciao! Ciao! E che.. c'è ci... Pagm myself in blue, red, black and gray Pagm over! Yeah, well, you know gray is my favorite color I felt so symbolic yesterday If I knew Picasso I would buy myself a gray guitar and play This is me, true! This is me, true! Pio, a mezzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.